buongiorno ragazzi oggi è stato questo nuovo video ed oggi siamo qui per aprire tutte le carte fino al decimo livello fino al decimo livello però non faremo solo questo dopo credo che vi farò vedere un glitch come prendere gelindo il nuovo blur beh personaggio perché non lo sapete dopo vi spiego e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto per non perdervi nessun altro video grazie mille per i 49 iscritti ragazzi a mancherà un iscritto e farò lo speciale 50 iscritti grazie a tutti i ragazzi tanto avriamo la prima casa cioè la casa che non credo non ci grande quindi niente la la cosa più bella è la mega cassa niente cassa piccola niente dai però non luce il bello ragazzi quando arriverà dai subito non abbiamo trovato nessuno ragazzi questo ragazzi potrebbe cambiare la storia la storia io la clicco io l'ho cliccata noi andiamo ad aprire se non ci trovo qualcuno io mi spacco 5 no niente rega non ci ho trovato niente no 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 su una bella mega cassa non ho trovato un cavolo ok ragazzi ora stop un attimo il video e poi ci rivediamo ok ragazzi ora vi spiegherò come trovare gelindo gratis praticamente voi dovete 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 andare qua provarlo fate tipo così guardate lo provate un po così super mi sembra un po strano la super è scarsissima poi uscite e andate dove sta il c'è comunque rega veramente a parte gli scherzi non ci ho trovato niente io mi aspetta qualcuno la prossima mega cassa è qua giù andate da gelindo 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 eccolo fate tante volte così perché così contate fino a 10 secondi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci così che potete dire quelle di bruster se che volete tanto gelindo poi andate su impostazioni mettete aspettate dove sta la lingua mettete inglese che vi arriverà il cos'è il gioco poi vi andate subito da gelindo ragazzi comunque ragazzi addio ai box opening potremmo fare mai più vedendo fate così tante volte di nuovo uno contate di nuovo fino a 10 uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci voi riandate subito su la lingua italiano rimettiamo italiano aspettiamo che si carica riandate di nuovo qua ricliccate di nuovo tantissime volte uno contiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci poi qua dovrebbe qui ragazzi è finito il glitch poi tipo se volete farlo domani dovete farlo almeno tre volte o due però tipo domani così dovete farlo poi voglio andare a vedere una cosa ma non è impossibile non so se ragazzi se funziona perché l'ho visto da youtube perché c'è stato scritto questo qua ha fatto video e ha scritto funziona e quindi ho provato a fare questo glitch spero che questo video vi sia piaciuto dove andiamo facciamo un piccolo box opening ragazzi però è bellissimo così ma super 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 ah ragazzi non potremmo fare mai più box opening cioè è bello così ma era meglio tipo è bellissimo eh era meglio tipo che lasciavi tante casse dopo tipo quando arriverai cioè che dopo puoi aprire cioè proprio regà lo so che è impossibile ma perché praticamente uno aveva duemila casse da aprire io volevo aspettare tanto e fare uguale quando arriverammo qua qua non potremmo fare mai più niente vabbè ragazzi se questo video vi è piaciuto per il glitch e pure il box opening piccolo io mi aspettavo di più nella mega cassa e spero che era pensavo che luccicava ma niente allora pure se è un po' corto non fai niente e mi ricordo di lasciare un botto di like ciao a tutti ragazzi ci vediamo domani e sempre un video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti